Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare in questa puntata. Il punto sulla campagna di vaccinazione. IRPET via libera al bilancio preventivo economico 2021. Mozione sulle criticità nel passaggio dalle filiali Ubia Biper. Una mozione sull'utilizzo senza sprechi di dosi di vaccino Covid-19 firmata da Marco Stella di Forza Italia è diventata l'occasione per fare il punto in aula sull'andamento della vaccinazione in Toscana, anche in seguito alla segnalazione che il sistema di prenotazione online per le categorie più vulnerabili ha registrato nei giorni passati numerosi problemi. Noi abbiamo avuto da Roma 15.000 dosi di Moderna, le abbiamo messe sul portale. Quando sono finite? E sono finite. So che ci sono 80.000 persone avendo diritto, ma di 80.000 avendo diritto essendo le dosi che ci hanno inviato da Roma, 15.000, 65.000 sono scontente. Ma abbiano il senso d'equilibrio di aspettare, di vedere se la prossima volta hanno fortuna. Io chiedo scusa se non è piaciuta la frase che appare sul portale, ma onestamente in questi momenti è stato un meccanismo quello del portale per accelerare. Pensate voi che tre settimane che noi vacciniamo con Moderna le persone super fragili e il risultato è che avevamo vaccinato 10.000 persone. Perché? Perché alla telefonata della ASL, senta, lei è un iperfragile, vuol venire a fare la vaccinazione. Tanti contenti sono andati, ma tanti? Ma chi gli ha dato il mio numero? Ma io la patologia è una questione di privacy, non voglio che si sappia. E allora accanto al sistema più naturale della telefonata della ASL abbiamo affiancato questo sistema del portale. È chiaro che si è trattato di un disagio che ha colpito tante persone e l'impegno del Presidente è stato quello di far intervenire per superare quello che è stato provocato essenzialmente da un problema tecnico. Dopodiché c'è anche il problema della carenza delle dosi di vaccino per cui questo portale viene riaperto ogni volta che ci sono disponibilità di dosi da poter assegnare per poter essere poi effettuate le vaccinazioni. Come abbiamo visto anche in altre situazioni e regioni ci sono stati dei disagi e dei disservizi ben più gravi, ma questo non giustifica il fatto che ci sia bisogno di un pronto intervento, così come è già stato innescato per risolvere questa problematica e rendere la possibilità di accesso, che già per le persone magari anziane è anche disagevole, almeno dal punto di vista tecnico assolutamente accessibile. Oggi noi siamo di fronte alla sfida delle sfide, quella di vaccinare tutta la popolazione ma se devo dire dalle tante domande che ricevo la questione più stringente sono due, perché avete vaccinato gli avvocati e perché siamo così in ritardo sugli over 80 e molte volte le due cose vengono legate, in realtà non sono, non devono essere legate perché gli avvocati così come il personale scolastico delle forze dell'ordine venivano e vengono vaccinati col vaccino AstraZeneca, mentre per gli over 80 è possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo ricevuto molte meno dosi di Pfizer di quelle che immaginavamo e allora abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era somministrarlo agli operatori sanitari e concludere la seconda fase di vaccinazione oppure accelerare sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo scelto di completare la vaccinazione del personale sanitario di chi è in prima linea. È evidente che ora bisogna accelerare sugli over 80, ne sentiamo tutta la responsabilità. Abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente. Vaccinazione 24 ore su 24. È assolutamente sconcertante che la vaccinazione si fermi alle ore 18. In paesi normali dove si vuole combattere il virus si vaccina 24 ore su 24. Lo si fa ovunque, lo si fa anche supportati dall'esercito. Il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi perché sono insieme e super fragili malati oncologici, malati cronici, ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità cinque volte superiore a tutti gli altri e lo dobbiamo fare anche a casa. Ecco la vera novità, over 80 vaccinati anche a casa. Poi dobbiamo fare lo scudo penale per chi va a vaccinare. Avete visto quello che è successo? Assistiamo a che un volontario, magari un medico in pensione, un infermiere, un volontario, somministra una dose vaccinale. Purtroppo questa dose vaccinale ha una reazione e il magistrato manda un avviso di garanzia al medico, all'infermiere o al volontario. Questo in un momento difficile come questo è assolutamente inaccettabile. Ecco perché abbiamo portato questo pacchetto di proposte all'attenzione del Consiglio regionale. Ci auguriamo che tutte le forze politiche lo votino perché abbiamo bisogno di un'accelerazione perché prima fermiamo l'emergenza sanitaria, prima ripartiamo con la ripresa economica. L'organizzazione per quanto riguarda gli over 80 siamo convinti che tante persone che hanno 80, 82 anni, 85, 87 possono tranquillamente recarsi negli ospedali. I vaccini Pfizer sono presenti in ospedale, poi dall'ospedale vengono portati nelle farmacie, nelle farmacie deve arrivare il medico di famiglia che va in farmacia, prende il vaccino, lo sposta nel proprio ambulatorio, poi deve chiamare il paziente, il paziente deve aspettare la fila e poi andare in laboratorio. Noi abbiamo sei spostamenti di un vaccino, con un unico spostamento potremo fare sei vaccini, quindi bisogna semplificare. Bene, abbiamo accolto la disponibilità del Presidente a avere la consapevolezza che forse qualcosa non sta andando nella direzione corretta, serve un impiego differente delle USCA, si possono fare a domicilio, si possono fare negli ospedali, si possono fare negli hub, serve cambiare metro, a nostra proposta è vaccinare tutti gli over 80 entro Pasqua, non possiamo attendere il 25 aprile perché è troppo tardi. La narrazione che sta andando tutto bene nelle vaccinazioni che stiamo procedendo spediti non è così. Riguardo le vaccinazioni complessive siamo circa a metà classifica in Italia. La nostra proposta di inchiesta, diciamo di commissione di inchiesta specifica sui vaccini, come l'avevamo proposta noi il Movimento 5 Stelle, era nell'ottica di cercare di creare un tavolo comune tra giunta, organismi della sanità, medici e forze politiche del Consiglio regionale per monitorare e cercare di implementare insieme un metodo efficace. Ci dispiace che sia stata rifiutata, io comunque insisto a rilanciarla perché forse è uno strumento che può aiutare tutti. Sicuramente la Toscana non sta facendo bene e non solo per di avere 80. Il caos che è successo anche per le prenotazioni, i molti problemi, l'informatizzazione che manca da parte degli anziani che devono in qualche maniera cercare qualcuno che per loro faccia le prenotazioni. Insomma tutto questo fa capire che c'è un sistema che non è rispondente alle esigenze del cittadino e va analizzato e cambiato. Serve un punto fermo e un atto di umiltà da parte di chi governa questa regione. Siccome sbagliare è umano non c'è niente di male se l'assessore, il presidente Gianni, i direttori delle USL si presentano e dicono abbiamo sbagliato. Non c'è niente di male, nessuno li accuserà mai di averlo fatto in mala fede, nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale. Ma oggi ci sono i numeri e i numeri dicono che la regione toscana è la penultima in Italia per vaccinazione degli over 80, che non riesce ad aprire il portale per vaccinare i settantenni e i fragili, che qualcuno addirittura riceve invece a casa la telefonata a 40 anni per andarsi a vaccinare forse perché è un personaggio famoso in televisione. Perché gli hub vaccinali buttano via dosi di vaccino tutti i giorni o almeno le buttavano fino a una settimana fa e non c'è stato raccontato dagli alieni, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Quindi tutto questo è successo. Non ovviamente per dolo, ci mancherebbe altro, non è più tollerabile sentir dire da parte delle USL e da parte dell'assessore che noi mentiamo. Vengano queste persone di fronte ai cittadini della Toscana e ammettano di avere sbagliato. Perché sbagliare è umano e da domani si lavora per far finalmente decollare il piano vaccinalo anche in Toscana. Ma noi l'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Bezzini in tema di vaccini ci ha detto che eravamo molto bravi, che eravamo i primi, che eravamo i migliori, il che sinceramente conta poco. In realtà scopriamo purtroppo, ahimè e non vorremmo averlo appreso, che la Toscana invece non è per niente la prima ma è addirittura l'ultima nella somministrazione sia dei vaccini rispetto agli over 80, sia rispetto al numero di persone vaccinate e rispetto all'intera popolazione. Però nel frattempo si è vaccinato scansi. Ecco, allora noi riteniamo che su questo l'assessore Bezzini probabilmente qualcosa da dirci ce l'avrebbe avuto. Quindi siamo molto preoccupati, vorremmo avere delle risposte e sinceramente di sventolare la bandiera dei primi non ci interessa perché non serve alle persone, specialmente quando purtroppo si scopre di essere ultimi. Intanto non abbiamo ancora risolto le vaccinazioni sulle persone anziane sopra gli 80 anni. Sappiamo che in Toscana purtroppo siamo ancora molto indietro. La sensazione che abbiamo, questo per tutti quanti, è che le tre ASL si stiano muovendo in maniera totalmente diversa. Quindi come se non ci fosse una linea unica regionale ma ogni ASL si stia muovendo per conto proprio e questo ovviamente porta anche disparità perché quando ci troviamo a confrontarci in aula ma anche nelle commissioni piuttosto che con l'assessore ci viene detto nell'ASL centro si fa così, nell'ASL nord-ovest si fa diversamente e io credo che questo non sia il metodo per lavorare. Ci vuole oltre ad avere gli spazi e l'organizzazione adeguata che ancora manca ci vuole anche una programmazione che sia efficiente ed efficace. Ricordo ovviamente che chi vuole vaccinarsi deve poterlo fare intanto il prima possibile. Questo dipenderà anche dalla mole di vaccini che arriverà e a quanto abbiamo capito arriverà presto dal governo ma la campagna vaccinale deve essere ben organizzata altrimenti avere vaccini senza avere l'organizzazione adatta per poterli fare ai nostri cittadini diventa di difficile risoluzione. Noi speriamo che in questi giorni si attivi la regione, l'assessore Gianni insieme alle ASL per garantire gli spazi, l'organizzazione e anche per buttare giù un calendario di tempistiche che sia opportuno. Scaglionato per fasce d'età certo, con però la velocizzazione anche delle professionalità che devono andare a vaccinare e nel caso l'utilizzo anche degli USCA laddove non arrivino i medici di famiglia, per esempio sugli anziani che sono nelle abitazioni. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana svolge da sempre un ruolo importante e prezioso di collaborazione sia con il Consiglio che con la Giunta regionale. Questo è stato l'ultimo bilancio di previsione presentato dal direttore uscente, il dottor Casini benvenuti, nel quale peraltro viene attestato il programma di attività per l'annualità 2021 e per il prossimo triennio. Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della Regione Toscana ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la Regione Toscana. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca, nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa, proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi, con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio, in sintonia con quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 2019. Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza, trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione. Qualche mese fa venne approvata una nostra mozione che impegnava la Regione a seguire il passaggio da UbiBanca, di alcune filiali di UbiBanca a Biper, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Chiedevamo appunto di tenere alta l'attenzione su questo momento e non sbagliavamo perché ci sono stati oggettivamente dei disagi per i clienti. La trasmigrazione del nuovo istituto ha visto cambiare veramente i vari numeri di conto e i codici IBAN e per quanto riguarda la scadenza dei pagamenti sono andati a risultati non pagati, alcune RID per aziende e professionisti. E risultano inoltre delle difficoltà per il home banking da remoto. Tutto questo fa sì che vi possa essere un invito a Biper a provvedere quanto prima a risolvere questi disaci del tutto. Notiamo già un impegno in questo senso. E la Regione Toscana che veramente segua questo passaggio, anche perché c'è sempre il discorso di mantenere il livello occupazionale che a noi sta particolarmente a cuore. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.